Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie Imperatores con cui raccontiamo la storia dell'impero romano attraverso i suoi personaggi più particolari, cioè appunto gli imperatori. L'imperatore di oggi a prima vista sembra un imperatore di passaggio, di passaggio per la serie, perché veniamo dal racconto di alcuni imperatori d'Occidente, mentre questo è un imperatore d'Oriente, e dopo di lui, come abbiamo già annunciato, racconteremo la storia degli ultimi tre imperatori d'Occidente, fino ad arrivare a Romolo Augustolo e chiudere questa parte dell'impero. Secondo altri è un imperatore di passaggio, anche perché nonostante abbia avuto un regno abbastanza lungo, in realtà viene in un momento di passaggio tra quello che è l'impero romano classico, che sta evolvendo, e l'impero che diventerà bizantino di qui a un secolo abbondante, che inizierà a cambiare poi dopo Giustiniano. Eppure Leone I, detto il Trace, o in alcune fonti detto anche il Grande, è più di tutto questo. Innanzitutto perché è una storia incredibile di affermazione di un uomo che divenne imperatore ufficialmente per fare la marionetta, e che invece riuscì a gestire realmente il potere, con dei grandi giochi politico-militari, lo vedremo durante la puntata, un po' perché proprio con Leone I, secondo alcuni storici, iniziano a gettarsi i germi di quel cambiamento di cui vi ho parlato prima, perché sarà proprio lui a iniziare a cambiare alcuni aspetti della politica degli imperatori romani d'Oriente, che presto saranno gli unici imperatori romani rimasti, che passeranno da essere imperator, termine latino con un suo significato ne parleremo, ad essere degli autocrator, termine greco che apparentemente ha lo stesso significato, in realtà con una valenza diversa. È una sottigliezza che però ci dirà molto di come progressivamente le cose cambieranno nelle prossime puntate. Quindi, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Ma in tutto questo, chi era Leone prima di diventare un imperatore? Beh, in realtà sappiamo pochissimo su di lui. Sappiamo che probabilmente nacque intorno al 411 d.C. nella regione della Tracia, quindi vicino a Costantinopoli, anche se secondo alcune fonti la famiglia in realtà era originaria della Siria e si era trasferita, anche abbastanza recentemente, in quella zona. Non era nobile, non era particolarmente noto, era un comandante militare, un comandante, diciamo, di secondo piano, che però aveva una caratteristica molto importante. Era un fedelissimo del Magister Militum, di origine alana, quindi un barbaro, Aspar, cioè l'uomo che già aveva fatto salire al trono Marciano, che aveva fatto un po' da eminenza grigia dietro il trono, è difficile capire quante decisioni venissero prese da Marciano e quanti invece da Aspar, ma soprattutto l'uomo che quando nel 457 d.C. Marciano morì, si trovò ad avere abbastanza potere per decidere chi sarebbe stato il suo successore. Ora, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, il suo successore più probabile sarebbe potuto essere Antemio, nobile, di famiglia notissima, ricchissimo e per di più imparentato per via matrimoniale con Marciano, di cui aveva sposato la figlia. Peccato che Aspar non avesse tanto quest'idea, perché temeva che Antemio sarebbe stato un imperatore difficile da controllare e quindi lo parcheggiò in panchina, in attesa di farlo diventare imperatore romano d'Occidente, ma ci arriveremo più tardi, e decise invece di provare a ripetere la stessa operazione che aveva fatto con Marciano, cioè prendere un comandante militare a lui fedele, possibilmente poco conosciuto, e metterlo come imperatore. Ora, con Marciano le cose gli erano andate solo più o meno bene, perché Marciano comunque aveva goduto di una certa autonomia, e per questo questa volta decise di andare a prendere qualcuno ancora più sconosciuto, cioè appunto Leone, per poterlo scegliere come imperatore. Leone aveva un'altra caratteristica che lo rendeva molto interessante. Era sposato, infatti, ma aveva solamente una figlia femmina, e in effetti nel corso del suo regno come imperatore avrà un'altra figlia femmina e un figlio maschio che però morirà giovanissimo. Questo a tutti gli effetti dava la possibilità ad Aspar di pensare di far sposare uno dei suoi figli con la figlia di Leone, di modo eventualmente poi da farlo diventare imperatore una volta che Leone fosse morto. Voi direte, ma tutte queste manovre, ma in tutto questo Aspar non poteva farsi direttamente nominare lui come imperatore? Beh, in realtà no, lo abbiamo già spiegato. Innanzitutto perché era un barbaro, era un alano, e la cosa sarebbe stata presa malissimo, sarebbe stata presa male in Occidente, dove non si faceva eleggere imperatore Ricimero. Figuriamoci in Oriente, dove i sentimenti antigermanici, il partito contro i germani, contro i barbari, era decisamente più forte. In più Aspar era un ariano, quindi era visto come un eretico da molti a Costantinopoli. Si poteva chiudere un occhio quando si trattava di farlo magister militum, ma come imperatore, quindi anche con delle responsabilità religiose, la cosa sarebbe stata un po' più difficile. Ad ogni modo, quando Leone salì al trono, in realtà si trovò ad avere una folta schiera di persone che ambivano a controllarlo dietro le spalle. C'era appunto Aspar con i due figli, c'era la moglie, Verina, che si dice fosse una donna molto immanicata con la corte, che aveva grosse mire di ambire a essere lei, a detenere il potere, o al limite a dividerlo con il fratello, Basilisco. Ne avete già sentito parlare nella puntata scorsa, sarà quello che comanderà la flotta verso Cartagine. Anche qui ci arriveremo, siamo leggermente sfasati rispetto alle scorse puntate. E poi c'era un altro uomo che ambiva a controllare il nuovo imperatore, cioè Anatolio, che non era nient'altro che il patriarca di Costantinopoli. Un uomo che cercava, come tanti altri patriarchi, di dimostrare l'importanza del suo ruolo, cercando di farlo diventare sostanzialmente un primum inter pares tra tutti i patriarchi orientali, raggiungendo sostanzialmente il livello che fino a quel momento era stato detenuto più che altro dal papa a Roma. Anatolio, per cercare di garantire ancora di più il suo controllo sul trono imperiale, fu probabilmente tra coloro che cercarono di organizzare una cerimonia di incoronazione per Leone, che fu allo stesso tempo qualcosa di mai visto fino a quel momento, eppure qualcosa che sostanzialmente ispirò le cerimonie di incoronazione da qui in poi, ma non solo in Oriente, addirittura anche in Occidente. Fino a quel momento, infatti, e qui arriviamo al discorso che avevamo un po' fatto nell'introduzione, gli imperatori romani erano sostanzialmente saliti al potere grazie all'acclamazione, l'acclamazione da parte del Senato, ma soprattutto l'acclamazione, questo valeva soprattutto gli ultimi secoli, da parte dell'esercito, che era in grado di dare la porpora all'imperatore. Dopotutto il termine imperator derivava proprio dall'ambiente militare, e quindi in qualche modo era legato a questo aspetto. Leone, invece, organizzerà, o si farà organizzare, questo ovviamente non è noto, una cerimonia molto diversa, che avrà sì degli aspetti civili, laici, legati al mondo romano, ma avrà anche dei forti aspetti religiosi, che come vi dicevo diventerà un po' il modello per tutte le incoronazioni successive. Quest'incoronazione, nel 457 d.C., ovviamente, inizierà poco distante da Costantinopoli, sulla collina dell'Ebdomon, che è una collina a sette miglia, questo vuol dire il nome dal centro di Costantinopoli, su cui sorgeva il palazzo dell'imperatore. Su quella collina l'imperatore verrà raggiunto da una parte dell'esercito, che proteggendolo e acclamandolo, quindi qui rimane la parte laica classica dell'acclamazione, gli fornirà delle vesti, e ovviamente di porpora, una corona, un bracciale e delle armi, con cui l'imperatore si rivestì, in modo da apparire proprio come il futuro capo, il nuovo imperatore. Fatto questo, però, invece di fermarsi qua, o al limite recarsi in senato per avere anche l'acclamazione da parte dei senatori, scese invece in città e raggiunse la chiesa di Santa Sofia. E una volta che l'ebbe raggiunta, entrò nella chiesa, si tolse una parte dei paramenti, soprattutto la corona, e si fermò temporaneamente a pregare. Dopo averlo fatto, prese la corona, se la rimise in capo, e riprese un viaggio, una processione attraverso la città, accompagnato proprio da Anatolio, dal patriarca. E una volta compiuta questa processione attraverso l'Ughilaici, attraverso chiese, tornò in Santa Sofia. Si tolse ancora una volta la corona, si fermò a pregare e questa volta, in maniera definitiva, a mettergliela sul capo fu proprio Anatolio, che in qualche modo legava il potere dell'imperatore a quello del tramite verso Dio, del patriarca. Ora, lo abbiamo detto, in Oriente all'epoca, ma era tanto in Occidente, l'imperatore aveva molto potere dal punto di vista religioso, era colui che indiva i concigli, era il vescovo di quelli che stavano fuori, come aveva creato Costantino. Insomma, aveva una grossa importanza dal punto di vista religioso, ma questo legame diretto col divino era qualcosa che non si era praticamente mai visto. Da questo momento, in realtà, in maniera più diretta, di qui a un secolo e mezzo almeno, qualcuno inizierà a parlare non più di imperator, quanto di autocrator, un termine greco che più o meno vuol dire la stessa cosa, ma che ha un'etimologia completamente diversa, perché non parla di un potere che giunge dall'esercito, ma parla di un potere che giunge da se stessi, da colui che quel potere lo detiene. Insomma, gli imperatori romani d'Oriente iniziavano a diventare un po' meno romani, un po' più bizantini, termine che io so essere impreciso, ma credo che abbiate capito a che cosa mi riferisco. E tutto questo quando mancava veramente pochissimo alla caduta dell'Occidente. Insomma, ci stiamo veramente preparando ad un cambiamento. Nonostante tutto questo, però, pare che Dio non volgesse uno sguardo di particolare interesse, particolare aiuto al trono di Costantinopoli, perché quando salì al potere, Leone, nonostante il governo di Marciano non fosse stato così negativo, si trovò di fronte a delle sfide a dir poco notevoli. Nei Balcani la sfida era ovviamente rappresentata dai barbari. Da quando era terminata la paura dell'orda degli Unni, che dopo la morte di Attila si era disgregata, fino alla morte del figlio di Attila e alla definitiva liberazione dei vari popoli un tempo sottoposti al dominio del re degli Unni, il problema era diventato un altro popolo, cioè gli Ostrogoti. Ora, gli Ostrogoti erano un popolo che un tempo aveva fatto parte dell'orda degli Unni, erano stati sottoposti agli Unni ed erano tra coloro che, ricevendo peraltro probabilmente anche degli aiuti da parte di Marciano stesso, avevano guidato la rivolta contro gli Unni stessi. Una volta che l'avevano fatto, gli Ostrogoti, invitati dallo stesso Marciano, erano entrati all'interno dell'impero e si erano andati a stanziare in Pannonia, dove vivevano ovviamente gestendo loro direttamente buona parte della provincia e soprattutto ricevendo dall'imperatore un l'autocompenso, a patto che, in caso di necessità, intervenissero ovviamente in favore di Costantinopoli. La cosa andò bene ovviamente finché Costantinopoli pagò, ma quando nel 460 d.C., tre anni dopo la salita al potere, Leone non fu più in grado di pagare direttamente il quanto pattuito, gli Ostrogoti decisero di ribellarsi e guidati dal loro sovrano, scesero attraverso i Balcani razziando tutto quello che si trovavano di fronte. Lo scontro non ci fu. I Romani alla fine decisero di trattare e per trattare sostanzialmente si accordarono per pagare nuovamente il tributo, permettere agli Ostrogoti di rientrare nelle loro terre e ripristinare la situazione precedente, ovviamente con in più delle terre nei Balcani razziate e quindi decisamente impoverite. Ci fu un altro passaggio di questo accordo. Il figlio del sovrano degli Ostrogoti infatti avrebbe dovuto raggiungere Costantinopoli ufficialmente come ostaggio per garantire la fedeltà ovviamente del padre che si chiamava Teodomiro e invece raggiunse Costantinopoli anche per potersi preparare a diventare un miglior sovrano. Visse presso la corte di Leone, venne addestrato, imparò sia l'arte militare che la cultura latina e tutto questo gli sarà di grosso aiuto perché quel ragazzo che si stava recando la corte di Leone per addestrarsi si chiamava Teodorico e di qui a qualche anno diventerà signore d'Italia conosciuto come Teodorico il Grande, ma ne parleremo di qui a qualche puntata. Purtroppo però non erano solo i Balcani ad essere un cruccio per Leone perché anche tutto il resto dell'impero dall'altra parte di Dardanelli era problematico e il problema era principalmente di tipo religioso. Ora, questo problema lo abbiamo già spiegato ampiamente nella puntata dedicata a Marciano quindi vi rimando a lì per approfondire ma sappiate che il problema sostanzialmente era nella definizione di quale fosse la natura di Cristo. Ora, esistevano varie correnti c'erano i diofisiti che dicevano che Cristo avesse due nature una umana, una divina e che queste nature fossero correlate strettamente connesse fra di loro in maniera perfetta. C'erano i monofisiti che dicevano che invece Cristo aveva una sola natura quella divina che aveva assorbito anche quella umana. Poi c'erano i miafisiti che vivevano principalmente erano diffusi principalmente in Siria mentre i monofisiti erano diffusi principalmente in Egitto. Questi miafisiti sostanzialmente vedevano una via di mezzo cioè vedevano due nature ma talmente connesse da non essere sostanzialmente separabili. E poi c'erano invece i nestoriani che finalmente cambiano leggermente di nome che erano diffusi nella parte più orientale dell'impero secondo alcuni erano addirittura finanziati dai sasanidi che pensavano di indebolire la posizione religiosa i nestoriani invece pensavano che le due nature di Cristo fossero assolutamente separate i gnomini non si incontrassero sostanzialmente mai e quindi ci fosse una netta separazione. Ora, tutto questo può sembrare una discussione di lana caprina di poca utilità dopo tutto più o meno credevano tutti la stessa cosa a parte questo. In realtà su questa discussione ci saranno lotte sanguinose che dureranno secoli e lo rivedremo in tutte le prossime puntate. Marciano aveva pensato di risolvere la situazione in maniera molto netta chiamando un concilio il concilio di Calcedonia che aveva sostanzialmente definito il diofisismo quello più praticato a Costantinopoli come l'unica dottrina corretta peraltro era anche quella praticata in occidente dove invece non c'era molto questa separazione. Il problema è che il concilio di Calcedonia aveva sì imposto questo credo ma senza che poi le masse lo avessero particolarmente accettato tanto che dopo aver imposto un vescovo di Alessandria ripeto Alessandria era un po' il caposaldo del monofisismo ovviamente invece fedele al credo ortodosso aveva sostanzialmente lasciato la situazione invariata tanto che proprio l'anno della morte di Marciano nel 457 era scoppiata una rivolta ad Alessandria che aveva ammazzato il vescovo in carico meglio il patriarca di Alessandria e aveva portato al potere un nuovo patriarca chiamato Timoteo II che ovviamente era monofisita. Bene in tutto questo Leone a complicare ulteriormente la situazione aveva una situazione interna anche abbastanza complessa perché di coloro che lo controllavano teoricamente Anatolio cioè il patriarca era ovviamente diofisita la moglie insieme al fratello della moglie erano invece di simpatie monofisite anche se non lo dicevano e Aspar era ariano insomma una situazione di una complessità unica Leone quindi dopo aver dovuto vivere questa situazione abbastanza di compromesso decise sostanzialmente di cercare un accordo compreso che ormai alcune parti della chiesa si erano distaccate i Nestoriani a tutti gli effetti saranno un'eresia che non rientrerà mai nel seno della chiesa e dopo il concilio di Calcedonia anche la chiesa Copta che è monofisita si distaccò definitivamente compreso questo però Leone iniziò a cercare un accordo cercando di limitare gli sconti tra le varie fazioni e cercando anche di parlamentare con le fazioni avversarie senza chiamare nuovi concili ma limitandosi sostanzialmente a fare una specie di censimento cioè a chiedere ai vari vescovi e patriarchi quale fosse la loro visione per poi raccogliere tutti insieme iniziando a preparare una specie di tentativo di creare un sincretismo tra tutte queste versioni che sarà poi portato avanti dai suoi successori poi ne parleremo il risultato sarà sostanzialmente che sotto il suo regno non ci saranno grossi scontri addirittura Timoteo II sarà sostituito di lì a pochi anni da un altro patriarca teoricamente di offisita ma supposizione abbastanza di accettazione verso gli altri credi che si chiamava peraltro anche lui Timoteo Timoteo III che rimarrà al potere per tanti anni insomma un equilibrio fragile ma comunque un equilibrio e una completa virata rispetto a quanto fatto da Marciano tutto questo però valeva solo per l'ambito politico perché quando poi si trattava dell'ambito privato pare che Leone fosse un credente ortodosso convinto tanto che emanò alcune leggi a Costantinopoli innanzitutto per colpire i pagani quelli che ancora vi erano e lo fece anche sotto vari aspetti ad esempio vietando che venissero rappresentati degli spettacoli pagani la domenica o durante le festività e poi in generale cercando di favorire il clero ortodosso di modo che lentamente si infiltrasse anche in altre zone dell'impero ed estendesse il suo potere fu anche un convinto cercatore di reliquie e la reliquia più importante che venne trovata sotto il suo regno fu il cosiddetto maforion cioè il velo che sarebbe stato portato dalla dalla Madonna e che era un velo rosso rosso-porpora con tre stelle che era un simbolo della Madonna cucite sopra c'era la leggenda che questo velo fosse stato trovato da due patrizi romani ovviamente in Israele nella provincia che oggi è Israele insomma nella provincia di Giudea sarebbe stato trovato in possesso di una donna ebrea la quale lo avrebbe mostrato dicendo di non volerlo assolutamente cedere ma i due patrizi approfittando di una confusione di un momento di confusione di un'annistrazione della signora avrebbero sostituito la cassa panca dove era contenuto questo maforion con un'altra cassa panca e ovviamente portato via portato a Costantinopoli quel velo rimase a Costantinopoli per parecchio tempo e fu una delle reliquie più apprezzate a Costantinopoli per tanto tempo a cui più spesso si rivolgevano i romani per chiedere protezione secondo alcune leggende fu portato poi a Dimola e oggi a Dimola qualcuno dice che sia presso di loro ma in realtà a Costantinopoli continuarono a venerare questo velo come lo avessero avuto loro ancora per tantissimi secoli quindi quale sia la realtà non lo sappiamo assolutamente queste scelte in ambito religioso però ci dicono qualcosa ci dicono che Leone alla fin fine di fare la marionetta degli altri non ne aveva così intenzione e che anzi stava cercando di sviluppare una propria politica per poter sviluppare però quella politica aveva bisogno da una parte di disfarsi di qualcuno dei suoi protettori e dall'altra di trovare nuovi alleati il primo protettore di cui si disfece in realtà grazie alla sua morte non da lui cercata fu Anatolio il patriarca di Costantinopoli che dopo la sua morte venne sostituito da un patriarca decisamente più vicino all'imperatore e quindi questa volta a controllarlo sarebbe stato proprio l'imperatore il problema più grosso però rimaneva Aspar il cui potere soprattutto sull'esercito era troppo forte per cercare un colpo di mano per questo dopo aver tentennato per parecchio tempo sull'idea di dare la propria figlia come sposa al figlio di Aspar quindi rallentando questo legame familiare trovò una sponda in un popolo molto particolare cioè gli Isauri ora gli Isauri a Costantinopoli erano considerati dei barbari ma gli Isauri non erano tutti gli effetti barbari e per di più vivevano da tantissimo tempo all'interno dell'impero romano erano gli abitanti di una regione dell'Anatolia meridionale chiamata Isauria che erano famosi per due motivi per essere molto autonomisti cioè da molto tempo tendevano a vivere nelle proprie fortezze cercando di limitare al massimo il potere romano e soprattutto per essere degli ottimi combattenti che in tempo di guerra fornivano a Costantinopoli delle ottime truppe in tempo di pace facevano i briganti e attaccavano tutti coloro che passavano per le loro terre questi Isauri come vi dicevo però erano combattenti formidabili e Leone fu abbastanza intelligente da contattare uno dei principali capi di questi gruppi di briganti soldati scegliete voi e di propogli di raggiungerlo a Costantinopoli inizialmente come mercenario e poi dopo averlo convinto a cambiare nome prendendo il nome greco di Zenone ricordatevelo perché sarà anche lui imperatore fece sposare proprio a Zenone la propria figlia primogenita Ariadne in questo modo legando strettamente Zenone al proprio partito e in qualche modo pensando così di riequilibrare la situazione militare aveva però fatto un po' i conti senza l'oste perché Aspare pur privato del potere o di parte del potere anche perché lo stesso Zenone era stato nominato magister militum e questo ovviamente gli aveva tolto una parte del potere sulle truppe nonostante questo Aspare fu abbastanza intelligente da punto di vista politico da cercare una sponda e in chi la cercò quella sponda? Beh nella moglie di Leone Verina e nel fratello Basilisco che temendo a loro volta di perdere il potere che avevano su Leone decisero di allearsi ad Aspare per fare un po' da contraltare al partito degli Sauri insomma Leone si era liberato di un possibile controllore ma rischiava di scatenare uno scontro interno alla corte di Costantinopoli in tutto questo parlare di religione politica non abbiamo perlò parlato ancora di uno degli aspetti più interessanti del regno di Leone cioè il suo rapporto con l'Occidente quando Leone salì al potere nel 457 l'Occidente si trovava ufficialmente senza un sovrano lo sarebbe diventato di lì a poco con la morte di Avito e il primo imperatore a salire al potere in Occidente sostanzialmente Leone lo dovette accettare cioè Maggioriano lo abbiamo raccontato nella sua puntata come salì al potere acclamato dai suoi uomini quando però Maggioriano morì nel 461 Leone sembrò rifiutarsi di scegliere un nuovo collega per l'Occidente anzi sembrò voler indicare che da quel momento sarebbe stato lui l'unico sovrano a regnare su entrambe le parti dell'impero quella di Oriente e quella d'Occidente non dimentichiamoci mai che la divisione tra Oriente e Occidente è una divisione di comodo ma che nonostante ci siano stati imperatori separati in realtà all'epoca nessuno pensava che gli imperi fossero due l'impero era uno e quell'impero era semplicemente diviso sotto due Augusti perché potessero meglio controllarlo alla fine come abbiamo già raccontato Leone non riconobbe quello che fu il nuovo imperatore d'Occidente cioè Libio Severo che venne scelto da Ricimero accettato dal senato di Roma ma non riconosciuto anche se tollerato diciamolo chiaramente da Leone tutto questo ci fa capire come le cose stessero cambiando e cambieranno ancora di più quando alla morte di Libio Severo sarà proprio la corte d'Oriente a scegliere il nuovo sovrano cioè Antemio proprio quell'Antemio che avrebbe potuto essere imperatore al posto di Leone e che invece divende imperatore d'Occidente che cosa ci racconta tutto questo ci dice che dopo che per secoli l'Occidente era venuto prima dell'Oriente e dopo che dai figli di Costantino in poi sostanzialmente l'Oriente aveva iniziato ad acquisire lo stesso potere se non pian pianino qualcosa in più ormai l'Oriente era a tutti gli effetti la parte centrale dell'impero romano ed era l'imperatore di Costantinopoli a scegliere espressamente chi dovesse regnare a Roma quasi dovesse scegliere qualcuno di inferiore a lui insomma le cose stavano cambiando il motivo per cui però Leone si era convinto a scegliere Antemio era perché al netto di Ricimero e al netto del rischio che c'era comunque nel mettere qualcuno su un trono così importante in realtà Leone in quel periodo aveva una preoccupazione decisamente più grande cioè quella dei Vandali Vandali di cui abbiamo ampiamente parlato con gli imperatori d'Occidente che avevano conquistato l'Africa Romana e che da quel momento si erano messi a spadroneggiare nel Mediterraneo Occidentale i Vandali rappresentavano un triplice problema per l'Oriente innanzitutto rappresentavano un problema perché avevano bloccato i commerci verso l'Occidente proprio perché avevano preso il controllo del mare rappresentavano un problema perché spesso avevano attaccato addirittura la Grecia la zona balcanica dimostrando quindi la debolezza anche dell'imperatore d'Oriente ma rappresentavano un problema anche dinastico nella scorsa puntata quella dedicata ad Anicio Olibrio in realtà come abbiamo raccontato quando Genserico re dei Vandali aveva razziato Roma aveva portato con sé la moglie di Valentiniano III di Cigna Eudossia e le sue due figlie una delle quali era andata Eudocia in sposa al figlio di Genserico cioè un erico futuro re dei Vandali in questo modo in qualche modo i Vandali si erano imparentati con la dinastia di Teodosio e con quella di Valentiniano e dato che l'imperatore d'Oriente era Leone era un parvenu questo per alcuni dava ai Vandali o meglio al futuro figlio di Unerico e di Eudocia maggior controllo possibilità di prendere controllo sull'Oriente di quanto ne avessero eventuali successori di Leone insomma la cosa era parecchio rischiosa per questo come abbiamo già raccontato nel momento in cui Antemio prese il potere a Roma si decise di organizzare una grande spedizione contro i Vandali una spedizione che fu militare condotta da truppe di terra ma fu soprattutto navale grazie a una gigantesca flotta di circa un migliaio di navi che venne creata pensate stanziando una quantità di denaro pari a tre anni di entrate dell'impero della parte orientale dell'impero quindi insomma una quantità di denaro incredibile e che venne affidata proprio a Basilisco comandò quella spedizione lo abbiamo raccontato in dettaglio nella puntata dedicata ad Antemio vi basti sapere se non avete vista che fu un disastro colossale un disastro colossale perché Basilisco venne attirato in una trappola da Genserico che fingendo di volerlo trattare fece attraccare la flotta romana a Capobon e poi di notte l'attaccò l'attaccò con delle navi incendiari l'attaccò facendo strage delle navi romane e costringendo Basilisco a rientrare a Costantinopoli con la coda tra le gambe e soprattutto quasi senza più una flotta ora in altre situazioni forse Basilisco ci avrebbe rimesso la testa il fatto che fosse fratello della moglie dell'imperatore in qualche modo gli permise di salvarsi anche se pare che dovette andarsi a nascondere per parecchio tempo dentro una chiesa per evitare che ci pensasse la popolazione a fare quello che l'imperatore non poteva fare la sconfitta di Capobon ebbe però due effetti principali il primo fu di spingere leone ad accettare la situazione in occidente rinunciando a nuove campagne contro i vandali e questo volle dire che sostanzialmente l'Oriente iniziò un po' a disinteressarsi di quello che capitava in occidente non è esattamente corretto vedremo nelle prossime puntate che ancora degli interventi verranno fatti ma sicuramente l'Oriente avrà meno interesse su quello che capiterà in occidente e questo succederà proprio nel momento in cui l'Occidente forse ne aveva più bisogno ci stiamo avvicinando lo sapete alla caduta alla conquista anche dell'Italia cioè di quello che rimane della parte occidentale dell'impero volle però dire un'altra cosa cioè che la stella di Aspar che secondo alcuni aveva anche agevolato questa sconfitta in qualche modo supportando l'azione di Genserico la stella di Aspar tornò a brillare e nuovamente Aspar cercò di avanzare rivendicazioni sul potere a Costantinopoli per cercare di saldare questo nuovo potere riuscì a convincere Leone probabilmente minacciandolo grazie al suo potere militare a far sposare la sua seconda figlia quella più giovane Leonzia con il secondo figlio di Aspar cioè Patrizio in questo modo si veniva a creare una situazione molto complicata in cui di possibili cesari e successori al trono imperiale ce n'erano due da una parte c'era Patrizio che aveva sposato Leonzia dall'altra c'era il piccolo Leone cioè il bambino che era nato dall'unione tra Zenone capo degli Sauri vi ricordate e la figlia primogenita di Leone questa situazione durerà pochissimo e sarà in realtà risolta dalla folla di Costantinopoli molto probabilmente aizzata dagli Sauri e da Zenone la folla infatti se già tollerava poco che il magister militum fosse ariano ovviamente tollerava ancora meno pensare che un futuro imperatore potesse essere ariano e nonostante Patrizio avesse promesso che nel momento in cui fosse diventato imperatore si sarebbe convertito al credo ufficiale ortodosso questo non fermò la folla che scatenò violenze terribili contro i germani goti presenti in città ci furono massacri scontri e a farne le spese di questi massacri scontri furono Aspar e il figlio maggiore Ardaburio che vennero presi e uccisi Patrizio che forse aveva scatenato tutto questo caos invece pare che sopravvisse in quel 471 in cui ci fu un nuovo massacro di germani come c'era stato pochi anni prima in realtà in quel 471 Patrizio riuscì a sopravvivere nonostante fosse ferito anche se pare che scomparve completamente dalla storia qualcuno lo associa ad un altro Patrizio di cui sentiremo parlare tra qualche puntata che fu amante di Verina dopo la morte di Leone ma pare che siano due personaggi diversi uniti casualmente dallo stesso nome ma insomma questa possibilità rimane ad ogni modo dopo la morte di Aspar finalmente Leone riuscì a prendere pienamente il potere nei suoi ultimi tre anni di regno regnò in quasi totale autonomia riuscendo a mettere da parte anche il potere della moglie e appoggiandosi sempre di più a Zenone e ovviamente riconoscendo come suo successore proprio il figlio di Zenone e Ariadne la propria figlia primogenita cioè il futuro Leone II questo riconoscimento lo accompagnerà fino alla morte che sarà nel 474 l'ultima sua impresa sarà condare un esercito delle armi a Giulio Nepote penultimo imperatore d'Occidente e mandarlo a combattere in Italia ma di questa spedizione ne parleremo tra due puntate dopo aver raccontato l'imperatore Glicelio quando poi arriveremo a Giulio Nepote la morte di Leone si porterà dietro l'apprezzamento di molti per molto tempo Leone sarà soprannominato appunto Leone I il Grande perché il suo regno aveva comunque visto un periodo di relativa pace in realtà molti storici rivalutano questa situazione perché nel momento in cui Leone si spense la situazione per l'impero non era così positiva i problemi religiosi che erano stati un po' messi sotto il tappeto stavano riesplodendo e avrebbero avuto un'grossa importanza successivamente il rapporto con i goti dopo la morte di Aspar si era incrinato e proprio mentre Leone moriva Teodorico a capo di gruppi di ostrogoti stava nuovamente calando sui Balcani la situazione in occidente era ovviamente molto instabile e aveva perso a Leone la grande occasione di cercare di ripristinare la situazione precedente ma anche la situazione a Costantinopoli era complessa perché Leone secondo suo successore nonché nipote era ovviamente ancora un bambino prenderà il potere avendo il padre Zenone come tutore e la morte di Leone secondo dopo pochi mesi porterà il potere proprio Zenone con l'altro partito quello però della moglie di Leone primo cioè Verina e di Basilisco che non si accontenterà di rimanere dietro le quinte e scatenerà una rivolta di questa rivolta e di tutto quello che comporterà però ne parleremo tra qualche settimana perché come abbiamo già detto nelle prossime tre puntate racconteremo gli ultimi tre imperatori d'Occidente Glicerio Giulio Nepote e poi Romolo Augustolo intanto io qui mi fermo vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino qui mi spiace di lasciarvi con questo piccolo colpo di scena sospeso per quasi un mese ma lo sapete dobbiamo tornare in Occidente lasciatemi ringraziare tutti quelli che seguono questa serie state crescendo sempre di più e ne sono contenti spero che vi piaccia che stia arrivando ogni settimana ci permette di avere un po' più di abbrivio nel racconto vi anticipo già ve l'ho già detto che poi da gennaio inizieranno delle piccole serie parallele per alcuni avvenimenti paralleli alla storia degli imperatori che vedremo se sospenderanno temporaneamente la serie o andranno in parallelo ma vedremo insomma ne parleremo poi tra gennaio e febbraio per il resto come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo ad avere più materiale a disposizione di tutti in particolare oggi il mio ringraziamento va a Luca Bastianelli grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore e nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao